Aaaaaaah! Grazie, fa malissimo! Ah, non è ridotta! No, no, no! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Sto giro ha fatto il video Vuoi parlare? No, 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 prego, prego, prego Allora, oggi vi proporremo un altro video sperimentale Il titolo è Azioni quotidiane con il surplus Ovvero, noi ci siamo collegati Come ben vedete, noi ci siamo collegati un elettrostimolatore Che ci aiuterà a fare le nostre azioni quotidiane Svolgeremo variazioni quotidiane Binne 1 per esempio Berre il caffè Lavarsi i denti Però con l'aggiunta Dell'elettrostimolatore Assurance In qualche parola Oggi faremo i deficienti per voi Come sempre Non è che abbiamo fatto Video serie in cui parliamo Tematiche scottate Non cazzate Avremo l'aiutante che ci passerà Tutto quello che ci servirà Partiremo da un livello Il livello massimo è 10 10 si Partiremo da un livello Partiremo sui 5 Partiremo dal 5 E man mano saliremo E io direi di iniziare Prego signorita Attacca A me mi sale il vomito Se mi dà un po' Siamo Siamo partita a 5 Perché siamo allenati Sennò già abbastanza insopportabile la cosa Si sentono Ragazzi Diventremo più muscolosi anche così Bella massa Io direi di iniziare con il caffè Il caffè E voglio il caffè Un caffè Grazie Grazie Allora Un po' di zucchero Zucchero per favore Due cucchi Grazie Aspetta 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 Allora Allora Sono già pronto Io te lo metto a te Lo zucchero Allora Quanti zuccheri Quanti cucchi hai Due grazie Aspetta Io te lo darò al ritmo Aspetta 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 Non lo stiamo facendo apposta Quanti hai detto? Due Anche due Anche due Anche due Anche due Anche due Tu consumi zucchi Grazie Lo zucchero Non vorremmo Non vorremmo più Sento stanco Non arrivo ad alzarlo Ci penso Vedete che ci penso io Si starà sciolto? Ragazzi si soffre Ragazzi Ma che abbiamo le convulsioni Hai molti Ecco già cominciato a uscire Un po' di roba Tieni il braccio un po' piegato Così fa male Si Ci sento Tutti i tempi Guarda Adesso Io Fratello Aspetta Non darvi Abbiamo un secondo di tempo Per me Per me Per me Per mollare Oh Ragazzi Ci vuole un po' di tempo Scusate ma È impossibile Finito Ragazzi Io direi Ok Alziamo un pelino Alziamo un pelino Per favore Grazie Molto gentili Non sei Oh Vabbè Io direi di andare avanti con Cosa facciamo? Stai cominciando a fare male Dai cosa facciamo? Dai c'è il robot I denti I denti I denti Spazzolino Perché Dopo il caffè Ma dopo dove si può? C'è un mitomagliolito La potrò muovere Vieni qui Vieni qui Non mi che lo faccio apposta Vieni qui Vieni qui Grazie Oddio Ogni volta che ti venga incontro Poi parto Mi torrò G30 Eh Aspetta che E non arrivo Perché si soffa Bravo Si stai fermo così Pronti? Sì beh In effetti Stai fermo Che si fa La resistenza Fa male Mi ricordo qualche caramellina questo Grazie Amor mi Amor meu Amor meu Non è che sto tanto bene Comunque Io direi Ho preso Contraigo Non è involontario Io direi Adesso La poca impastata Se ne serve un po' d'acqua Un po' d'acqua Ora proveremo A ver Alzi Intanto Alzi No Prima l'acqua Poi alziamo un pelino Non sopporto più Grazie Non c'ho forza Alziamo un pelino Ancora Arriviamo a Sette Ah sta alzando Ma è bestiale Cazzo Fa malissimo Non è vivo No No Aspetta Non fa finire Che non posso Non sopporto più Non sopporto più Guarda Vieni 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 Ehi qui Ma fermo E sto fermo Chiedi la mano Di andare al ritmo insieme Se la capisci È come l'ondel Ciccola Andrà Tocca a me Posso bere Che non sopporto più Che non sopporto più Che non sopporto più Mettimi Non ti prendi Non ce la faccio Non sopporto più Non sopporto più Eh è così Quelle cose non fa È qua Bevo 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 Facciamo il cin 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 Aspetta Che mi devo fare Bevi Cin 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 Bevi Bevi Non sopporto Non sopporto E sono nella mia testa Il dolore Non si arriva Ragazzi Ok Io direi di fare Io Giochiamo Io direi Guarda Sto nella posizione Giusto Per fare Una bella partita In attrice Va bene Ci sto Bisogna essere veloci Quando non ci Attrice Gioccheremo attrice Adesso Aspetta che ce l'ho Chi fa là Prendi il foglio Fai la griglia Palla veloce Guarda Aspetta Mi devo concentrare Non parla stizzito No Tra mia Posto palino Amore Oppa 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 Vai Vai No Aspetta Penoce Aspetta No Ripari Ripari Aspetta Nitro Faccio la X Sul cerchio Aspetta Faccia An동ione Forte Ard happened Balleggio ragazzi allora per voi abbiamo per voi abbiamo provato le relazioni quotidiane con l'elettrostimolatore io direi che in questo video possiamo chiuderlo qui ci salutiamo ci salutiamo ragazzi se vi è piaciuto o ci avete da farci fare qualcos'altro scrivetelo nei commenti o sulla pagina facebook i congiuntivi un saluto al prossimo video